Una torre, una serata di estate settembrina, un utrito parterre, personalità di spicco, eccellenze tra cui molti giovani, il mondo delle proloco, con rappresentanti giunti da diverse province, hanno caratterizzato la sesta edizione del premio Capo Suvero, che è convolto ed emozionato i presenti. Ideato e promosso dalla proloco della città del Catanzarese, ha mostrato in un susseguirsi di immagini, video, interventi e racconti, uno spaccato di questa terra e dei suoi grandi paradossi. Si inizia con le immagini dell'operazione Crisali de Tre, che ha inferto un duro colpa alle andrine dell'Ametino proprio quella mattina. A condurre le indagini il procuratore Capo della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri. A lui il premio alla legalità, consegnatogli dall'Onorevole Angela Napoli. Certo che è un segno, un gesto importante, che io apprezzo e ringrazio. La zona di Lamezza Terme è abbastanza controllata dalle forze dell'ordine e con risultati eccellenti. È un lavoro sinergico, si continua a fare, a produrre indagini importanti, indagini fatte in modo sistematico e io penso che col tempo la gente si convincerà che delinquere non conviene. E alla denuncia si aggiunge il grido di coloro che reclamano giustizia. Premio alla memoria andata all'avvocato Francesco Pagliuso, assassinato il 9 agosto 2016 a soli 43 anni, a ritirare l'onorificenza alla sorella Antonia Assunta Pagliuso. Menzione speciale in memoria di Carlo Nardi, esempio di solidarietà e giustizia sociale che ha lasciato una traccia indelebile nella sua città, Mendicino. Il premio al giornalismo d'inchiesta al caposervizio del quotidiano Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati. Ma il leitmotiv di questa edizione è stata una narrazione diversa della Calabria che